olimpiacos baka topola termina 5 a 2 olimpiacos riesce a vincere in maniera netta e incredibile con il baka topola 5 gol di cui vi ricordo un autocoll quindi sono in totale in realtà veramente parlando 4 i gol in totale vediamo nel dettaglio i gol chi li compia quindi chi li realizza e poi vediamo le statistiche a segnare per olimpiacos i 5 gol sono stati ayub e il cavi nel primo tempo daniel potencia che ne fa 22 di gol vecchio irish che è un giocatore della squadra avversaria del baka topola che fa 2 gol e yusuf il arabi che la mette dentro nel secondo tempo il baka topola risponde con 2 gol in totale entrambi arrivano nel secondo tempo il primo a firma di jacovac il secondo a firma di circovici da segnalare un'espulsione quindi un cartellino rosso per il baka topola infatti a uscire è nel secondo tempo nicola cuvervici le statistiche sono totalmente positive per olimpiacos una marea di passaggi di possesso di palla una marea di passaggi e una buona elevata quantità di prigione nei passaggi va bene per olimpiacos ripeto di nuovo iscrivetevi al mio canale youtube narraturo italiano commentate fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video una buona giornata